Siamo bella, oggi si mangia, oggi si scarica una bella cosa, su, venite qua, venite qui, su, ecco il pranzo servito, guardate che bel pranzo, qui praticamente c'è una misticanza di erbe, vedete, stanno le rapastrelle, c'è il tarassaco, c'è il trifoglio, guarda qua, mangiate, 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 su, e più c'è crosta di pane scattata dal polo, ecco qua, guarda come mangi no, ci depamano, adesso cominciano a sbelare, vedi, guarda come si inghiottisce, inghiottisce piano e piano, guarda, buon appetito, mi raccomando, fate l'uva fresca, guarda come inghiottisce l'erba, e logicamente ho fatto un po' pezzettini che la possono ingerire, guarda, guarda come inghiottisce l'erba, avete visto? Grazie a tutti